Lulù se la siesta poco bene. Queste le parole di Clarissa, che allarma e allo stesso tempo rassicura i fan. La principessa si svela sulla sua assenza dai social network, facendo sapere che c'è qualcosa che non, la sorella Lucrezia pare che non sia in condizioni neppure di utilizzare Instagram. Allo stesso tempo, invita il pubblico che le segue a restare tranquillo, in quanto non si tratterebbe di qualcosa di grave. Cosa sta davvero accadendo? Al momento, non è possibile saperlo, ma sicuramente nelle prossime ore qualche dettaglio in più uscirà fuori. Siamo un po' fuori dai social perché Lulù sta poco bene, sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei. L'ex concorrente del grande fratello VIP6 inizia così il suo messaggio, per far sapere ai fan il motivo della sua assenza sui social network. Jessica Selassie, vincitrice di questa sesta edizione del reality show, fino a pochi minuti fa aveva invece condiviso qualcosa sul suo profilo ufficiale di Instagram. Attraverso una delle sue ultime stories è possibile capire che si trova in macchina. Forse, Jessica non è attualmente in compagnia delle sue sorelle, ma le sta raggiungendo. Perdonateci per l'essere poco attivi, non è nulla di grave, state tranquilli. Soprattutto tornerò a postare io da stasera e stasera Clubhouse con Samu. Vi amo, grazie di... Conclude così il suo messaggio Clarissa. Solo ieri, Lulu condivideva con i fan la felicità di tornare a casa. Finally going back home, scriveva per segnalare il suo ritorno a casa. Dopo ciò, Lucrezia non ha più dato ulteriori notizie al pubblico che la segue. I fan comunque non dovrebbero preoccuparsi, in quanto non si tratterebbe di qualcosa di grave. Nel frattempo, anche Manuel Bortuzzo sceglie il silenzio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.